La Wii U ha fatto cacare praticamente a tutti quanti! Ci serve subito una nuova console! Qualcuno di voi ha qualche brillante idea da proporre? Oh, ma che splendida idea Reggie! È come il gamepad della Wii U, solo che puoi taccare i controlli e usarli come se fossero due singoli! Ma come dovremmo chiamarla? GENIO! Aaaaaaaaaaaaah! Nintendo! Ragazzi, ma quanto è bello lo Switch! Mamma mia, lo vorrei anch'io! Ma costa veramente un sacco di soldi! Voi cosa? Ce l'avete? L'avete comprata? Avete intenzione di comprarla? Fatemi sapere nei commenti e mi raccomando andate in descrizione a guardare i link Ciao!